Mentre lasciamo il capo della cupola al suo viaggio verso Corleone, in questi giorni, soprattutto sui profili social della primogenita di Rina, Maria Concette, di suo marito Tony Ciavarello, sono fioriti commenti estremamente variopinti sui giornalisti accusati di non rispettare il dolore di una famiglia alle prese con la morte del papà. Ora, su questo punto potremmo parlare intere giornate perché non ricordiamo i commenti della famiglia Rina di fronte ai lutti causati dalla mafia e va ricordato che fra le categorie che hanno versato tanto sangue c'è proprio quella dei giornalisti. Facciamo così, rispettiamo il dolore della famiglia Rina, però chiediamo a Maria Concetta, la primogenita, che ha annunciato di volere denunciare giornalisti invadenti, di dire esplicitamente, pubblicamente, basta anche sul suo profilo social, che la mafia fa schifo, che l'esistenza di suo padre è stata dedicata a una cosa che fa schifo. E poi, cara signora Rina, quasi 50 anni tra la titanza e 41 bis non è proprio il massimo per un padre.